e cerchiamo di portarci nuovamente avanti cioè ancora avanti con un altro gol tipo questo c'è il portiere palla nuovamente in mio possesso la difesa spazza però l'Empoli ancora tiene palla attenzione l'Empoli per fortuna c'è la difesa usciamo dalla nostra aria già la posso mettere in mezzo non trovo nessuno dei miei però la palla rimane a noi ci provo con il super tiro occhio al movimento dei compagni botta dalla distanza è Champions League dunque, Juventus PSV Grazie per la visione!